Mentre il Partito Democratico tende la mano al Movimento 5 Stelle per tentare di scavare la fossa politica al governatore autonominato candidato in pectore, Mario Oliverio tira dritto per la sua strada. Giunto a Catanzaro, stringe mani, incontra i precari della sanità e tenta il sabotaggio dell'alleanza, che invece il PD alternativo al governatore continua quotidianamente a tessere. L'alleanza si costruisce non attraverso un automatico trasferimento dal centro alle periferie. Le alleanze si costruiscono partendo dai processi reali che sono nella società. Vedo che ci sono rincorse ai 5 Stelle e poi ci sono risposte dei 5 Stelle che sono davvero offensive. E si lancia in un duro botta e risposta con l'esponente grillino Nicola Morra, che ha categoricamente escluso un asse con il Partito Democratico che in Calabria avrebbe dato molto lavoro alla magistratura. Questo signore che è alla guida della commissione antimafia, che appunto si permette di fare il moralista e di fare le lezioni di moralismo e di etica agli altri senza guardarsi allo specchio. Nessun passa indietro poi rispetto alla sua candidatura. Oliverio risponde a Musoduro al commissario del PD, Stefano Graziano. È un commissario che vuole, come dire, sottrarre il PD ai calabresi, che è una cosa un poco diversa. Nessuno ha il potere di togliermi fuori dal PD. Il commissario non è il proprietario del PD. Il PD ha regole e le regole vanno rispettate da tutti, compreso il commissario. Luana Costa per la Cineus 24.